In Martina trova il primo successo casalingo del 2024, al Tour si basa una pennellata di Pinto dopo 80 secondi di gioco. Per superare la Germison e conquistare tre punti fondamentali nella corsa al primo posto del Gironi H. Prolti via i padroni di casa trovano subito il vantaggio. Lancio della difesa di Rizzo per Pinto che controlla sulla sinistra, supera due avversari e con un destro giro trafigge il portiere Milan. Al ventesimo minuto l'invio sbagliato di Milan finisce sul corpo di Palermo, ma il numero 9 sbaglia il tapin vincente. I biancazzori sono nuovamente pericolosi al ventitresimo, triangolazione tra Pinto e Palermo, colpo di d'acqua dell'attaccante argentino verso l'esterno che calcia verso la porta ma è sfortunato nel rimpallo. Al trentesimo ci prova ancora la squadra di Pizzulli che perde Pinto per infortunio, crosso dalla destra di Ganforina sul secondo palo, stacco di Perrini ma la sfera termina alta. Al quarantunesimo il Martina sfiorerà doppio, padina avanti per Palermo, sponda per Baglione che prova a sopprendere le 30 metri il portiere Milan con il pallone che termina di pochissimo. Al sesto della ripresa si vede la Gelbison per la prima volta, crosso dalla destra di Ferrante, palla verso Sicurella che impatta malissimo la sfera, svirgolando la conclusione. Al trentasesimo della ripresa la Gelbison pericolosa, punizione di Manzo verso il centro dell'aria, Delino prende il tempo alla difusa martinese e impatta con la testa. Bravissimo Pirro nella circostanza a mettere in corner con un colpo di Reni. Al quarantesimo l'episodio che potrebbe cambiare il match. Crosso dell'entrato Lollo sulla mano di Ganforina attaccata al corpo ma per l'abito è rigore. Dall'11 metri però Pirro neutralizza l'ex Casano dell'Ino e mantiene l'1-0, dice il Martina che conquista 3 punti d'oro. E domenica prossima affronterà la Fidelis Sandra in trasferta allo saluto degli Ulivi.